A Banca Sicurezza è stato anche rinnovato il protocollo antirapina con la Prefettura di Roma. Quali sono le novità di quest'anno? Si muove l'accordo nel solco della versione precedente, quindi sostanzialmente l'accordo prevede l'impegno per le banche a dotare di almeno 5 misure di sicurezza ogni agenzia bancaria, di scambiare in modo sistematico dati e informazioni con le forze dell'ordine, di mettere in protezione le apparecchiature banco. Qui c'è la novità sostanziale, le misure passano da 1 a 2, questo per testimoniare l'attenzione che c'è rispetto a un fenomeno che desta la giusta preoccupazione. e poi c'è chiaramente la previsione di analizzare costantemente i fattori di criticità nell'ambito delle riunioni dei comitati per l'ordine della sicurezza pubblica. Abbiamo sì sottoscritto il protocollo con la Prefettura di Roma, ma in realtà si tratta di un accordo che di fatto è operativo su tutto il territorio nazionale e quindi rappresenta una sorta di policy di sicurezza da parte delle banche. Il calo delle rapine dipende anche dall'efficacia dell'azione di collaborazione tra pubblico e privato, tra abbi e forze dell'ordine. È così? È stato sicuramente un elemento importante. Da quando la collaborazione con le forze dell'ordine è diventata sempre più strutturata, abbiamo registrato un calo importante delle rapine. L'ultimo anno si è quantificato intorno al 20%, ma se confrontiamo il dato di quest'anno con il dato del picco registrato nel 2007, che era di quasi 3.000 rapine, notiamo un effetto notevolissimo che ha portato ad abbattere drasticamente il numero degli eventi. Certamente hanno contribuito anche altri elementi, tanti investimenti delle banche, le tante soluzioni di sicurezza che ci offre il mercato specializzato e in questo è importante il ruolo di Ossif che ha saputo valorizzare le tante soluzioni di sicurezza proposte dalle aziende specializzate che sono un elemento di ricchezza in Italia. Il prefetto Pecoraro ha, nel suo intervento, ipotizzato che il modello del protocollo ABB forze dell'ordine possa essere applicato a difesa anche degli altri settori. Cosa ne pensa Ossif? Noi siamo stati sicuramente i primi a valorizzare questo concetto di collaborazione formalizzata attraverso la sottoscrizione dei protocolli. Già sappiamo che sia il Ministero che alcune prefetture si stanno muovendo nella stessa direzione rispetto ad altre realtà come le farmacie, come le tabaccherie e anche il commercio in ambiti territoriali ben definiti.